la differenza ok quando vuoi l'inappetenza è uno dei problemi in realtà più comuni perfetto sentiamo al meglio il mio puoi fare tipo uno sticker l'inappetenza è uno da niente prova 1 prova 2 sono centrato quando vuoi sì 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 perfetto faccio anche la parte finale io prendo la parte successiva il tritta carne il mixer e i coltelli che non ci sono i cani si prendono in maniera in maniera manifesta si dice in maniera manifesta ma è bravo si dice in maniera manifesta anti errori grammaticali ci saranno non lo so